La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un informativo urgente del Governo sulle iniziative di competenza per l'apertura dell'anno scolastico in relazione alla situazione epidemiologica da Covid-19. Dopo l'intervento della Ministra dell'Istruzione interverranno i rappresentanti dei gruppi in ordine decrescente secondo la rispettiva consistenza numerica per sette minuti ciascuno. Un tempo aggiuntivo è attribuito al gruppo misto. A facoltà di parlare la Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. Prego. Grazie Presidente. Deputate e deputati, l'informativa di oggi in quest'Aula mi permette di offrire al Parlamento un quadro complessivo e aggiornato sulle iniziative che il Governo ha adottato e sta adottando per consentire l'avvio dell'anno scolastico 2020-21 e il rientro a scuola in presenza, in condizioni di piena sicurezza, delle nostre studentesse, dei nostri studenti e di tutto il personale. Da parte dell'esecutivo c'è il massimo impegno per garantire il diritto allo studio di tutte le alunne e di tutti gli alunni e anche il diritto alla salute, di quante e quanti a settembre torneranno nei nostri istituti scolastici. In campo non c'è solo il Ministero dell'Istruzione. Ci sono quello della salute, da mesi al lavoro, per la tutela della sicurezza di noi cittadini, quello dei trasporti. Tutto il Governo è unito per raggiungere l'obiettivo. Ci sono gli uffici scolastici regionali, i dirigenti delle nostre scuole, gli enti locali, le organizzazioni sindacali. Serve il massimo sforzo da parte di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, per il conseguimento di un risultato che riguarda il Paese intero. Da settimane sto girando l'Italia per monitorare tavoli regionali di lavoro per la ripresa di settembre. Ieri sono stata in Toscana e sono fiera di poter dire che sto trovando molta collaborazione sui territori, fra coloro che insieme al Ministero che mi onoro di dirigere sono chiamati a lavorare con noi per riportare tutti e tutte in classe. Voglio ringraziare tutti e tutti coloro che si stanno spendendo in queste settimane a livello centrale e periferico per ottenere questo risultato, mettendo da parte pause, vacanze, esigenze personali nel nome e per il bene della scuola. A partire da tutti quei dirigenti scolastici e quei docenti, che anche ora, mentre si svolge questa informativa, stanno adoperandosi per le loro studentesse e i loro studenti. La scuola sta facendo squadra, sta lavorando compatta, sta dando una grande lezione di resilienza, unità, capacità organizzativa. Sta dimostrando ancora una volta il proprio valore a tutto il Paese, lavorando a testa bassa per il bene di tutti. Credo che la politica debba fare altrettanto e in questa occasione, ancora più che in altre, lasciatemelo dire, credo debba astringersi attorno al tema della ripresa delle attività didattiche in presenza, che merita di essere affrontato con serietà e consapevolezza. Serve tanta responsabilità, anche da parte di ogni cittadino. Occorre che si mantengano, in questo lasso di tempo che precede il ritorno fra i banchi, comportamenti in linea con le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, per tutelare la salute di tutti ed evitare che si diffondano i contagi o che si creino nuovi focolai. A settembre la scuola riparte. Voglio dirlo in quest'Aula e ribadirlo con chiarezza, per arrivare a tutte quelle famiglie che ci stanno ascoltando e che spesso sono travolte da toni allarmistici e apocalittici. Ho firmato lo scorso 24 luglio l'ordinanza che stabilisce l'avvio delle elezioni dal 14 settembre, mentre dal 1 settembre, come previsto dall'ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020, numero 11, si svolgeranno le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti per tutte quelle studentesse e quegli studenti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, ma anche per tutti quelli che i docenti vorranno coinvolgere. In Parlamento, in questi mesi, ho avuto modo di chiarire più volte che la sospensione delle attività didattiche in presenza ha rappresentato per tutto il Governo una scelta dolorosa e difficile. Si è trattato però di un atto necessario, indispensabile per fronteggiare il diffondersi della pandemia. Gli scenari forniti dal Comitato Tecnico Scientifico erano chiari. Lasciare i nostri ragazzi e le nostre ragazze unitamente a tutto il personale a scuola avrebbe rappresentato un grave rischio per la salute nazionale. Abbiamo scelto una linea di prudenza che ha consentito di salvare migliaia di vite e restiamo convinti della nostra scelta. In questi mesi ci siamo mossi con responsabilità, con prudenza, nell'esclusivo interesse delle cittadine e dei cittadini. Ed è con lo stesso senso di responsabilità che oggi siamo chiamati ad affrontare il rientro a scuola. Voglio ricordare che nel frattempo, già a giugno, con gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado, abbiamo riportato mezzo milione di studentesse e di studenti e i componenti di ben 13.000 commissioni a scuola. Un'operazione che si è svolta senza criticità, anche qui grazie alla collaborazione di tutti. Nel primo giorno delle prove ho voluto essere presente in una scuola di Bergamo, in un territorio che ha sofferto molto. Ho voluto portare la vicinanza del Governo e il mio impegno personale, come donna, come italiana, come insegnante. E' ancora viva nella mia mente l'emozione di quella mattinata, l'emozione delle ragazze e dei ragazzi che ho incontrato pronti a dimostrare quanto appreso nel corso degli studi, ma anche del personale scolastico, pronto a ricominciare, con spirito di servizio e impegno. Per alcune realtà locali, martoriate dal Covid, lo svolgimento degli esami di Stato ha rappresentato, per certi versi, una vera e propria prova generale di ritorno alla quotidianità. I fatti dimostrano che quella scelta ha prodotto i risultati sperati. Lo confermano i tanti messaggi di ringraziamento, le molte lettere pervenute in queste settimane. Abbiamo dimostrato di sapere come tutelare la comunità scolastica nel momento più difficile e come ripartire poi con gli esami appena è stato possibile farlo. L'obiettivo di settembre è impegnativo. Lavoriamo alla ripartenza con lo spirito di servizio, con un importante sforzo organizzativo e anche con una visione che prova a guardare oltre l'emergenza, cercando di generare dalla risposta alla crisi anche delle opportunità di miglioramento e di sviluppo, a partire dal rilancio degli investimenti per l'istruzione. Solo per la ripartenza di settembre abbiamo previsto, tra risorse già stanziate e le prossime in arrivo, 2,9 miliardi di euro. Se consideriamo le risorse mobilitate da quando ho giurato come Ministro a gennaio, appena sette mesi fa, parliamo di oltre 6 miliardi che rappresentano, e credo che su questo davvero non si possa che essere tutti d'accordo, un segnale inequivocabile della volontà di rimettere la scuola al centro di investimenti importanti e di essere un paese in cui l'istruzione possa essere davvero motore di sviluppo, innovazione, ascensore sociale per i capaci e meritevoli, come sancito all'articolo 34 della nostra Costituzione. Tutti abbiamo percepito che l'interruzione della socialità scolastica, la scuola in ogni caso non ha mai chiuso, apposto con chiarezza al centro del dibattito, la centralità di un'esperienza come quella educativa, di tale complessità da schiacciare ogni semplicismo, e la complessità dovuta ad un elemento bistrattato e dimenticato negli ultimi anni, ma a noi ben presente dalla scuola dipende il futuro del paese. E' anche per questa ragione che siamo dinanzi a un momento storico decisivo. La pandemia, non nascondiamocelo, ha cambiato il nostro modo di vivere e sta lasciando dei segni profondi sull'esistenza di tutti noi. E i suoi effetti non sono terminati. E' un tema globale, tanto che in altri paesi, in Europa e non solo, ci sono ancora molte incertezze su come far ripartire la scuola, garantendo anche la massima sicurezza. Paesi con i quali ci siamo confrontati più volte, nelle settimane e nei giorni precedenti, e che hanno preso a modello le scelte italiane per la gestione dell'emergenza e della ripartenza. L'Italia ha già deciso come farlo, e lo ha fatto attraverso linee guida, che sono state ufficialmente presentate il 26 giugno scorso, ed emanate con decreto del Ministro, dopo un lungo lavoro di confronto con tutti gli attori coinvolti nel sistema nazionale di istruzione e formazione, e dopo essere state approvate anche dalle regioni e dagli enti locali. Siamo partiti dalle prescrizioni del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute, avute prima con il documento del 28 maggio, fornito al Ministero dell'Istruzione, e successivamente integrate con ulteriori chiarimenti. Abbiamo fatto tesoro delle proposte del Comitato di esperti che io stessa ho nominato. Abbiamo ascoltato tutti, enti locali, regioni, organizzazioni sindacali, associazioni di genitori e studenti, di chi rappresenta le persone con disabilità, il mondo delle paritarie. Abbiamo costruito attorno alla necessità del distanziamento fisico, indicata dal Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute, un documento che parla alla scuola, che guarda agli aspetti didattici, all'organizzazione scolastica, tenendo conto della specificità di un sistema in cui abbiamo oltre 8.000 autonomie scolastiche, circa 40.000 edifici, in cui sussistono condizioni anche molto diverse. Abbiamo realtà particolari, quali scuole di montagna e sulle isole, che intendiamo tutelare e rilanciare, quali presidi di democrazia e integrazione sul territorio, come anche istituti che sono ospitati da strutture storiche o scuole di recente costruzione, una varietà che non poteva avere come risposta linee guida rigide e centralizzate. Per questo abbiamo prodotto un documento che consenta a ciascun istituto, con il supporto dei nostri uffici scolastici, degli enti locali e del Ministero, di operare tenendo conto delle proprie condizioni di partenza e del proprio contesto. Il Ministero dell'Istruzione, a cui su questo versante spettano competenze di coordinamento pedagogico, sta ora chiudendo, con gli altri di castelli coinvolti, con le regioni e gli enti locali, con le forze sociali, anche le linee guida per i più piccoli, per i nidi. Un lavoro portato avanti in queste settimane dalla Vice Ministra, Anna Scani, in un'ottica di spirito di squadra che deve permeare l'operato di tutto, il Governo e di comune assunzione di responsabilità. Saranno pronte a breve. Per le scuole dell'infanzia è anche vigente il documento del 26 giugno, condiviso con regioni e enti locali. Le singole istituzioni scolastiche sono chiamate ad operare nel rispetto di un complesso equilibrio tra sicurezza, benessere socio emotivo di studenti e personale scolastico, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali, alla salute e all'istruzione. Il loro ruolo è centrale ed è costantemente accompagnato dall'amministrazione centrale e periferica e dagli enti locali, al fine di definire soluzioni concrete e realizzabili in considerazione dell'alto numero di variabili che concorrono al superamento di diversi ostacoli. A questo scopo il Ministero dell'Istruzione ha organizzato e cura un sistema di coordinamento a livello nazionale e periferico con gli enti locali, le autonomie territoriali, le parti sociali, le stesse istituzioni scolastiche e tutti gli attori istituzionali chiamati a cooperare nell'ambito del sistema di istruzione e formazione. A livello regionale, l'organizzazione dell'avvio dell'anno scolastico viene curata da ciascuna regione attraverso l'istituzione di appositi tavoli regionali operativi insediati presso gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'Istruzione, già al lavoro da settimane, a cui sono chiamati a partecipare il direttore dell'ufficio scolastico regionale individuato come coordinatore, l'assessore regionale all'istruzione, l'assessore regionale ai trasporti, l'assessore regionale alla salute, il rappresentante regionale dell'Unione e province italiane, il rappresentante regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, il referente regionale della protezione civile. Compito dei tavoli regionali è quello di monitorare costantemente le azioni poste in essere dalle conferenze dei servizi a livello territoriale e da diversi attori coinvolti, al fine soprattutto di rilevare eventuali criticità di non immediata o possibile soluzione a livello locale. Ancora, a livello territoriale, provinciale, metropolitano e comunale, stanno operando apposite conferenze dei servizi con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, finalizzate ad agire concretamente sulle criticità individuate nelle istituzioni scolastiche insistenti sul territorio di analisi, con particolare riferimento a spazi, a redi, edilizia, interventi e soluzioni in relazione alle risorse disponibili sul territorio in risposta ai bisogni espressi. Specifiche e dettagliate indicazioni organizzative sono state fornite alle scuole al fine di garantire omogeneità al loro lavoro nel rispetto delle diversità territoriali e gestionali autonome. L'autonomia scolastica, ormai ventennale, costituisce uno strumento privilegiato per l'elaborazione di una corretta strategia di riavvio dell'anno scolastico e che sia quanto più rispondente alle esigenze dei territori interessati. Il Regolamento 8 marzo 1999 numero 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, conferisce alle scuole la possibilità di costruire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto di apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni attraverso la definizione di precisi ambiti di intervento organizzativo. Per questo, le istituzioni scolastiche sono libere di avvalersi di ulteriori forme di flessibilità derivanti da questo prezioso strumento, sulla base degli spazi a disposizione e delle esigenze dell'utenza e del territorio. Ma le istituzioni scolastiche sono anche chiamate a garantire a ciascun alunno la medesima qualità dell'offerta formativa, fermaristando l'opportunità di adottare differenti soluzioni organizzative. L'organizzazione delle attività educative e didattiche dovrà prevedere la valorizzazione e l'impiego di tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile e se le condizioni anche climatiche lo consentiranno, l'utilizzo di spazi aperti. I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari legate alla corporeità, al movimento. Il curriculum si basa fortemente sull'accoglienza, la relazione, la cura, la vicinanza fisica, il contatto, lo scambio e la condivisione di esperienze. La prossima riapertura richiederà perciò l'adozione di misure particolarmente attente alla garanzia del rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie ma anche della qualità pedagogica delle relazioni. Un'attenzione particolare riservata ai bambini e alle bambine che per la prima volta risultano iscritti prevedendo per essi e per i genitori momenti dedicati di ascolto e di primo ambientamento. Nella riprogettazione degli spazi ed ambienti educativi dovranno essere seguite alcune accortezze educative quali la stabilità dei gruppi i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza con gli stessi educatori insegnanti e collaboratori di riferimento. La disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini con i suoi rispettivi giochi ed arredi opportunamente igienizzati comporterà la necessaria eventuale riconversione di tutti gli spazi disponibili in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento relazione e gioco. Già oggi l'ingresso dei bambini avviene in una fascia oraria temporale aperta che potrà essere opportunamente adeguata alle nuove condizioni programmata e concordata con le famiglie. La refezione scolastica così come per la ricreazione e per tutti i momenti di pausa dall'attività didattica è un momento assolutamente importante per lo sviluppo del ruolo sociale di valorizzazione e di crescita di ogni alunno. alle scuole è stata raccomandata la cura nel cercare e trovare apposite soluzioni le più percorribili al fine di non sacrificare se non necessario e comunque in minima parte lo svolgimento di momenti di aggregazioni così importanti nella crescita individuale. La stessa importanza anche se con funzioni di incidenze diverse sulla personalità informazione e sul percorso di crescita soggettivo deve essere riservata alle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento il cosiddetto PCTO intendiamo poi far sì che nulla di quanto faticosamente realizzato dai docenti italiani durante il periodo dell'emergenza possa andare perduto vogliamo valorizzarlo farne una ricchezza trasformare l'esperienza avuta in azione educativa oggetto di continuo approfondimento e per questa ragione che nel documento per la pianificazione della ripresa delle attività scolastiche educative e formative è stata prevista l'adozione di specifiche linee guida per l'utilizzo della didattica digitale integrata proprio perché sia chiara la sua funzione di integrare non di sostituire il percorso di apprendimento quale ulteriore potente strumento metodologico e didattico in via ordinaria e straordinaria si tratta di un documento già pronto e che sarà condiviso con le forze sociali e il consiglio superiore della pubblica istruzione diffuso sarà diffuso nei prossimi giorni così come particolare rilevanza assumerà la formazione di tutto il personale scolastico le istituzioni scolastiche organizzeranno singolarmente o in rete una specifica attività di formazione per il personale docenteata in materia di utilizzo delle tecnologie relativamente alle diverse manzioni professionalità docenza attività tecniche amministrativa di accoglienza e sorveglianza al fine di non disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza per i docenti e del personale amministrativo nel corso dei periodi di lavoro agile ma anche il ministero è in campo con il programma formare al futuro la formazione del personale scolastico docenti ata dirigenti scolastici riparte dal digitale con l'obiettivo di capitalizzare e valorizzare le esperienze e le competenze maturate nei mesi di sospensione delle attività didattiche in presenza con la didattica e le attività lavorative a distanza ma anche di guardare al futuro e alla modernizzazione del sistema scolastico i percorsi di formazione sono partiti in questi giorni andranno avanti per tutto il prossimo anno scolastico fino a dicembre 2021 ampio il catalogo dei percorsi dedicati agli insegnanti intelligenza artificiale uso di app e piattaforme di learning nella didattica cittadinanza digitale sono solo alcuni esempi dei corsi disponibili già in questi giorni per quanto attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e della sicurezza le istituzioni scolastiche stanno organizzando apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale agli studenti e alle famiglie attraverso le quali potranno richiamare i contenuti del documento tecnico del comitato tecnico scientifico del ministero della salute riguardante le precondizioni per la presenza a scuola ci saranno campagne specifiche anche da parte del ministero dell'istruzione la governance del sistema come anticipato fin dall'inizio di questo mio intervento coinvolge molti attori tutti impegnati nell'unico obiettivo di riportare tutti a scuola saremo pronti in concreto grazie alle linee guida emanate stiamo innanzitutto riorganizzando e migliorando gli spazi interni delle scuole abbiamo messo a disposizione degli enti locali 330 milioni per l'edilizia leggera abbiamo già finanziato 5.664 enti che ora stanno realizzando gli interventi in questo filone si inserisce anche la gara per i banchi di cui si sta occupando il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica covid-19 si tratta di banchi monoposto di tipo tradizionale o di tipo innovativo lo stesso comitato tecnico scientifico del ministero della salute nel documento del 28 maggio ha suggerito l'uso di sedute monoposto per favorire il distanziamento in queste settimane abbiamo chiesto a tutti i dirigenti scolastici di fornirci con precisione dati certi rispetto al fabbisogno di eredi di ciascuna scuola non abbiamo imposto una sola tipologia di banco come ho letto da più parti ma semplicemente lo Stato per la prima volta si è preso la responsabilità di sostenere le scuole aiutandole a rinnovare gli eredi ci hanno risposto 8.008 istituzioni scolastiche sulle 8.390 esistenti praticamente quasi tutte gli istituti ci hanno chiesto 2,4 milioni di banchi oltre 750.000 sono per la scuola primaria dunque necessariamente banchi di tipo tradizionale più adatti per i piccoli mentre 1,7 milioni sono stati banchi richiesti per le secondarie di cui oltre 1 su 4 di tipo innovativo l'alta richiesta delle scuole dimostra che di questi eredi c'era bisogno e da tempo lo Stato finalmente interviene ho letto diverse corbellerie in questi giorni numeri e cifre dati a caso anche rispetto ai costi ho letto che il governo sta sprecando denaro sulla scuola permettetemi di esprimere tutto il mio biasimo e di invitare tutti ad attenersi solo ad informazioni certe e verificate consentitemi altresì una ulteriore considerazione io credo che ogni singolo euro speso per la scuola non sia perduto ma costituisca invece un investimento un investimento per il futuro dell'Italia a redi compresi oltre a migliorare gli spazi dove non ce ne sono abbastanza stiamo lavorando in raccordo con i territori con gli enti locali ma anche con i musei i teatri gli archivi le biblioteche insieme con il ministero dei beni culturali per creare alleanze con le scuole e far sì che le lezioni possano essere ospitate anche altrove voglio citare ad esempio l'esperienza del teatro della Pergola di Firenze che ho avuto modo di visitare ieri e che metterà i propri spazi a disposizione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi per il reperimento dei locali necessari stiamo lavorando con tutti i soggetti e le istituzioni laiche e religiose che in questo momento hanno manifestato la concreta volontà di fornire un contributo fattivo per tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione e ad essi va il mio ringraziamento una scuola che si apre al territorio a ciò che la circonda è uno stimolo per una didattica innovativa e inclusiva di cui abbiamo bisogno così come abbiamo bisogno di docenti e personale ATA per poter operare anzi senza di loro nulla e dico nulla sarebbe ovviamente possibile per questo abbiamo chiesto al MEF oltre 80.000 assunzioni a tempo indeterminato per i docenti non solo grazie alle risorse stanziate con il decreto rilancio avremo più docenti ATA da distribuire su tutto il territorio nazionale l'amministrazione ministeriale sta lavorando in queste ore alla distribuzione delle risorse agli uffici scolastici regionali a giorni saranno formalizzate quanto ai docenti in più particolare attenzione sarà data alla scuola dei più piccoli all'infanzia e alla primaria parliamo della fascia di età che più ha sofferto in questi mesi la sospensione delle attività didattiche il tema dell'organico è centrale per la scuola non abbiamo mai perso di vista anche in questi mesi così complessi tutte quelle operazioni che servono ad avviare il nuovo anno e a gettare le basi per quelli successivi partiamo dai concorsi abbiamo bandito 78 mila posti per assumere nuovi insegnanti li espleteremo al più presto per riattivare una macchina concorsuale ferma da troppo tempo con grave danno per la scuola che senza concorsi non ha tutti gli insegnanti di cui ha bisogno concorsi che valorizzano l'esperienza dei docenti con più annualità di servizio alle spalle e che al contempo permettono ai giovani che vogliono cominciare a insegnare e che da diversi anni attendono queste procedure di cimentarsi e ottenere l'agoniato ruolo abbiamo voluto concorsi selettivi come impone la Costituzione diversificati certo per dare a chi ha anni di insegnamento alle spalle il giusto riconoscimento del percorso fatto ma seri lo abbiamo fatto per la convinzione condivisa anche con le più alte istituzioni dello Stato che il dettato costituzionale e il bene della scuola esigono un passaggio concorsuale che selezioni e consacri alla professione più delicata e più vitale per il futuro di un paese persone capaci meritevoli con la passione per l'insegnamento valorizzazione delle capacità e del merito uguaglianza solidarietà sono solo alcuni dei principi espressi nella nostra Costituzione un testo che deve continuare a rimanere la bussola di ogni nostra azione nonostante le difficoltà e nonostante diverse posizioni strumentalmente critiche abbiamo garantito anche la mobilità del personale scolastico nella certezza di dover assicurare anche quest'anno il diritto di tutti come previsto dalle norme vigenti di ricongiungersi dopo anni passati lontano da casa alle loro famiglie abbiamo istituito le graduatorie provinciali per le supplenze digitalizzando tutta la procedura anche queste agevoleranno la chiamata dei supplenti garantendo più trasparenza e rapidità di fatto stiamo digitalizzando quasi un milione di domande si tratta di uno strumento che inizia a porre rimedio in via strutturale a problematiche annose per il nostro sistema di istruzione fra le quali la mancanza cronica di alcune tipologie di docenti soprattutto nelle aree del nord del nostro paese che sgrava le istituzioni scolastiche da una mole enorme di incombenze e che pone un freno alla vecchia roulette della scelta di dieci o venti scuole anche su questo ci sono state molte polemiche pretestuose voglio fare chiarezza per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria i contratti a tempo determinato perché di questo stiamo parlando andranno prima a chi è abilitato e dopo in subordine a chi si sta laureando in scienze della formazione primaria si tratta della laurea che abilita l'insegnamento proprio per questo grado di scuola e durante la quale si fanno anche specifici percorsi di tirocinio parliamo quindi di giovani preparati perché già in possesso delle competenze derivanti dallo svolgimento del tirocinio persone che comunque venivano già chiamate tramite lo strumento della messa a disposizione in un paese che li ha spesso dimenticati noi abbiamo scelto di stare dalla parte dei giovani giovani che hanno scelto di insegnare e che stanno studiando alacremente secondo un percorso di studi con accesso limitato proprio per svolgere una delle professioni più importanti che esistano ancora con la procedura sinteticamente chiamata col veloce consentiremo ai docenti collocati in posizione utile nelle graduatorie concorsuali e nelle graduatorie ad esaurimento di poter esprimere volontariamente l'opzione per l'emissione in ruolo in una regione diversa da quella della graduatoria di appartenenza velocizzando la loro assunzione e andando a coprire posti che altrimenti resterebbero vuoti ci sono poi due temi che mi sono particolarmente cari parlo delle studentesse e degli studenti con disabilità con disturbi specifici dell'apprendimento e con altri bisogni educativi speciali e delle alunne e degli alunni che vivono in condizioni di disagio anche economico in famiglie che hanno subito gli effetti di questa emergenza le linee guida emanate a giugno prevedono come priorità irrinunciabile quella di garantire adottando tutte le misure organizzative necessarie ordinarie e straordinarie con il coinvolgimento delle famiglie e delle associazioni per le persone con disabilità la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali in particolar modo di quelli con disabilità in una dimensione inclusiva e partecipata ho fortemente voluto che fosse offerta questa garanzia alle famiglie ed era doveroso farlo così come abbiamo voluto utilizzare le risorse PON risorse europee per dare una mano concreta a chi sta vivendo difficoltà economiche che possono ricadere sugli studi dei figli e generare purtroppo anche fenomeni di dispersione scolastica abbiamo previsto uno stanziamento di 236 milioni oltre i 2,9 miliardi per dare libri scolastici zaini e dispositivi digitali gratuitamente alle ragazze e ai ragazzi delle secondarie di primo e secondo grado meno abbienti materiali che saranno loro forniti direttamente dalle scuole il bando è scaduto lo scorso 23 luglio hanno aderito quasi 4.900 scuole daremo libri gratis a centinaia di migliaia di studentesse e di studenti abbiamo integrato triplicandole le risorse che ogni anno sono stanziate sul diritto allo studio è previsto una filiera corta con i soldi dati direttamente alle scuole con questa misura sosteremo rapidamente migliaia di famiglie non vogliamo lasciare indietro nessuno i nostri uffici territoriali monitorano i casi più difficili supportano le scuole in difficoltà lo faremo ogni giorno ogni ora fino alla ripresa delle attività didattiche in presenza abbiamo un contatto costante con il ministero della salute per tutti gli aspetti di carattere sanitario penso al tema dei test sierologici e alla rinnovata relazione che sarà creata fra le scuole e i presidi sanitari pubblici sul territorio per poter supportare dirigenti e personale in relazione a qualsiasi aspetto che riguardi i temi appunto di natura sanitaria colgo l'occasione per ringraziare anche in questa sede il ministro Roberto Speranza da parte del quale non è mai mancata la collaborazione e che sta facendo davvero un lavoro importante per il nostro paese in tema di sicurezza sanitaria voglio informarvi che il ministero dell'istruzione sta per definire con il di castero della salute il dipartimento della protezione civile di intesa con le parti sociali il protocollo sulla sicurezza per settembre partendo dal modello già sperimentato con successo in occasione degli esami di stato del secondo grado dunque il lavoro procede a passo spedito eppur essendo il quadro sempre passibile di mutamenti non stiamo perdendo nemmeno un minuto le giornate sono pienamente dedicate alla ripresa presidente deputate e deputati questo è il tempo di essere responsabili e lo saremo ma anche coraggiosi di essere prudenti e allo stesso tempo innovatori di guardare al presente immediato ma anche al futuro se fosse possibile dire saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a domani credo che tutti accetteremmo di farlo ma non è possibile oggi dobbiamo vivere oggi è la nostra responsabilità si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso si tratta di vivere il tempo che ci è dato vivere con tutte le sue difficoltà sono le parole di un grande statista italiano Aldo Moro che con la sua intera vita ha dato prova di onestà di lungimiranza di servizio al paese vogliamo farle nostre è lo spirito con cui stiamo affrontando questi giorni voglio utilizzare parole nette la scuola ripartirà e sarà più unita di prima lo sanno i dirigenti scolastici gli insegnanti i direttori dei servizi generali amministrativi tutto il personale ATA che si stanno facendo in quattro giorno dopo giorno per far sì che ciò possa accadere lo sto vedendo negli occhi di tanti di loro incontrati in queste settimane nelle visite alle scuole che hanno già tutto pronto per settembre nelle varie realtà del paese la scuola riaprirà i cancelli grazie all'alleanza con le famiglie e con il territorio la scuola riaprirà per accogliere i nostri studenti non possiamo però fermarci a settembre grazie al lavoro di tutto il governo e alla tenacia e alla competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte a cui va il nostro ringraziamento l'Italia ha oggi a disposizione uno strumento quale il Recovery Fund che consente di guardare al futuro del paese con visione e speranza abbiamo l'occasione storica di farlo rimettendo al centro la scuola un'opportunità irripetibile che dovremo saper sfruttare con la collaborazione di tutti dovremo investire nell'edilizia scolastica per un piano pluriennale destinato ad ammodernare gli edifici scolastici già esistenti e a costruirne di nuovi per la creazione di ambienti innovativi di apprendimento lavoreremo per la riduzione del numero di alunni e alunne per classe basta classi sovraffollate volgarmente dette classi pollaio dovrà essere varato un piano di formazione del personale scolastico in grado di assicurare qualità e innovazione quella qualità dell'insegnamento degli studi che è il solo volano per lo sviluppo economico e sociale italiano le future generazioni e non il consenso momentaneo sono il nostro obiettivo concludo presidente facendo mie le parole di una grande personalità prima donna chiamata a ricoprire l'incarico di ministra della pubblica istruzione Franca Falcucci ho sempre creduto nella scuola come luogo dove si sviluppano le potenzialità delle persone e nel diritto di tutti a essere protagonisti della propria crescita a settembre riporteremo tutti in classe in sicurezza come governo abbiamo già dimostrato di saper tutelare la comunità scolastica nel momento più difficile e abbiamo già sperimentato la riapertura in sicurezza per mezzo milione di studenti la scuola ora chiede collaborazione non è il tempo delle divisioni non può esserlo e non sulla scuola non ci siamo mai sottratti né ci sottrarremo al confronto con tutti maggioranza opposizione forze sociali e tutti coloro che come noi pensando al bene della scuola puntano alla crescita solidale dell'Italia è una sfida che nessuno di noi può immaginare di perdere grazie che se intervenire il deputato Gallo ne ha facoltà prego grazie presidente grazie ministra per la sua disponibilità ad un confronto continuo con il Parlamento un confronto che la Commissione Cultura sta realizzando con tutti i protagonisti dell'avvio dell'anno scolastico dal presidente del Comitato Tecnico Scientifico al commissario per l'emergenza Arcuri che sarà domani in audizione come sanno le deputate e i deputati di questa Camera l'Italia ha affrontato con successo un'emergenza sanitaria drammatica solo grazie ad uno spirito di concordia nazionale che ha ispirato ogni cittadino italiano durante il periodo più critico dell'emergenza sanitaria ognuno di noi si è liberato delle proprie casacche ed ha collaborato con ogni ente con ogni istituzione per salvare vite umane e ridurre l'impatto dell'emergenza ogni italiano è andato oltre le appartenenze del proprio ruolo e del proprio lavoro e ha fatto vincere un principio di solidarietà ha fatto vincere un principio di unità nazionale perché si è compreso che o avremmo vinto la sfida contro il virus tutti insieme oppure tutti avremmo pagato conseguenze altissime oggi sappiamo che la sfida non è terminata e nessuno di noi nessun italiano dovrebbe dismettere questo spirito se noi tutti abbiamo dovuto affrontare un virus con un sistema sanitario debole che ha subito tagli che è stato smantellato negli anni e che ha trovato forza nel grande cuore nella grande competenza degli operatori sanitari del nostro paese allo stesso tempo abbiamo anche dimostrato che lo Stato e il Governo è stato capace di una risposta celere in piena pandemia investendo più di 7 miliardi aggiuntivi nel sistema sanitario aumentando di 9 mila posti i posti in terapia intensiva costruendo ospedali covid e riorganizzando tutti i presidi sanitari in modo da abbattere e prevenire la diffusione del virus nel paese alla stessa maniera abbiamo ereditato un sistema scolastico debole che dal 2008 al 2017 ha subito tagli clamorosi di risorse e di personale nella scuola un sistema scolastico che ha una percentuale di spesa pubblica che è tra le ultime in Europa abbiamo ereditato un parco di edifici scolastici che tante statistiche e studi definiscono inadeguati abbiamo ereditato un sistema scolastico che secondo gli studi internazionali Ox e Pisa segnala grosse lacune tra le competenze degli studenti gravi problemi di disuguaglianza che spesso diventano abbondoni scolastici povertà educative di cui questo paese paga un prezzo altissimo contro tutto questo c'è finalmente una svolta un cambio di prospettiva da quando da meno di un anno il Movimento 5 Stelle al governo del Ministero dell'Istruzione innanzitutto si risponde alla più grossa crisi economica mondiale con investimenti di oltre 6 miliardi solo per il 2020 e circa 3 miliardi spesi per far partire in sicurezza in tutte le scuole italiane per il 14 settembre si risponde a una crisi non tagliando personale come accaduto in passato ma con la richiesta di 8 mila docenti da assumere da settembre accompagnando tutto questo con una grossa spinta all'innovazione e con un'accelerazione alla digitalizzazione la Ministra Pisano all'innovazione ha assicurato che con la banda larga si raggiungeranno finalmente tante scuole già entro la fine dell'anno e questa è una risposta ad una domanda di modernità di famiglie e studenti perché in molti casi quando manca un processo digitale lasciamo spazio ad una burocrazia che nasconde un sistema malato se qualcuno quindi parla di incertezza dell'avvio dell'anno scolastico sbaglia a imputare queste incertezze al governo o al ministro perché è tutta da ricercare nei clamorosi ritardi di questo paese che non è stato capace di progettare e investire in un sistema di istruzione degno della nostra storia e della nostra nazione affidando tutti gli sforzi ai docenti e ai dirigenti scolastici è bene ricordare che mentre noi parliamo oggi migliaia di scienziati in tutto il mondo sono ancora impegnati in importanti ricerche sul virus e la sua diffusione tuttavia ancora una volta il modello Italia elogiato dal New York Times dovrà dare dimostrazione di unità di tutte le istituzioni rispondendo all'apertura della scuola prevista il 14 settembre governo parlamento regioni enti locali sono chiamati a supportare il grosso lavoro che stanno svolgendo dirigenti scolastici docenti e personale scolastico ma facciamo attenzione se c'è qualcuno che nonostante i 330 milioni stanziati nonostante i tavoli regionali nonostante le semplificazioni introdotte nel nuovo decreto continua a ritardare la sua azione e la sua progettazione dobbiamo accendere un campanello di allarme interventi di edilizia scolastica leggera in capo ai sindaci non possono attendere i patti educativi territoriali per coinvolgere le organizzazioni sociali e la comunità cittadina in capo agli enti locali non possono attendere perché se c'è chi resta fermo o chi non è capace di intervenire con celere politiche di emergenza allora diventerà necessario che il governo preveda una procedura di emergenza per costruire cabine di regia locale con la protezione civile e garantire che nessun comune e nessuna scuola resti indietro rispetto alla via dell'anno scolastico a settembre lavorando ininterrottamente ad agosto per gli interventi di edilizia leggera e il riperimento degli spazi necessari questo è il momento dell'azione dei progetti delle soluzioni e se c'è qualche forza politica che invece vuole passare il suo tempo a lamentarsi dei ritardi vorrei capire almeno dove erano quando nel 2018 il Movimento 5 Stelle ha portato in Commissione Cultura la proposta di legge per cancellare le classi pollaio senza trovare il sostegno di nessun'altra forza politica ma solo quella di sindacati dirigenti scolastici pedagogisti e organizzazioni nazionali che tutelano gli studenti con disabilità se c'è amore per la chiarezza la trasparenza dovete spiegarmi perché c'è un senatore della Repubblica che continua ogni giorno ad inventarsi una fake news sulla scuola dai plexigas ai banchi con le rotelle fino ad affermazioni negazionistiche nei confronti della pandemia certo non ci aspettavamo cose diverse da chi come Matteo Salvini è entrato nella classifica stilata dalla BBC sui politici che più di tutti gli altri nel corso della pandemia hanno diffuso fake news ma ci aspettiamo ci aspettiamo invece dai comportamenti dai componenti che appartengono a quel partito e ad altri partiti di opposizione responsabilità serietà e collaborazione per far partire tutte le scuole del paese comprese quelle dove il centro-destra governa regioni e comuni perché non è che fanno un piacere al governo o al ministro ma loro rispondono ai cittadini che le hanno votati chiesto di intervenire il deputato Sasso ne ha facoltà prego grazie presidente parliamo di scuola se è possibile ecco vede presidente a 48 giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico ci saremmo aspettati che il ministro dell'istruzione facesse chiarezza su argomenti che riguardano oltre 15 milioni di italiani tra studenti genitori e lavoratori della scuola ci saremmo aspettati per esempio di conoscere la destinazione finale di quel famoso 15% di studenti che il ministro Azzolina ha più volte dichiarato di non poter ammettere in classe a causa delle restrizioni da coronavirus parliamo di un milione di studenti 15% colleghi su 8 milioni uguale un milione di studenti che non sanno ancora che fine faranno se faranno lezioni nei teatri nei cinema nei tendoni nei giardini le famiglie vede ministro Azzolina le mamme di papà vorrebbero sapere dove dovranno accompagnare a settembre i propri bambini lo vorrebbero sapere per tempo in modo da potersi organizzare ci saremmo aspettati presidente di conoscere qualcosa in più sui cosiddetti ingressi scaglionati di cui ha parlato il ministro Azzolina perché per i genitori che devono recarsi al lavoro lo dico per suo tramite anche ai colleghi del Movimento 5 Stelle è un problema timbrare i cartellini e arrivare in tempo sul posto di lavoro se si lascia carta bianca alle scuole e la campanella può sonare indifferentemente o alle 7.30 o alle 10 vita reale presidente vita reale ministro Azzolina problemi di tutti i giorni per i quali gradiremmo avere una risposta che ahimè non c'è stata più che un'informativa mi sembrava un riassunto delle puntate precedenti non abbiamo capito niente dopo 40 minuti ma il limite nostro della Lega che non siamo duri di comprendere non capiamo ci saremmo aspettati da parte sua soprattutto rispetto della normativa vigente lei si sciacqua spesso la bocca della normativa vigente e dimentica la direttiva europea numero 70 del 1999 recepita dal 368 del 2001 che lei ha portato in giro in campagna elettorale caro ministro Azzolino quando era sindacalista dell'Anef oggi questa normativa non viene più rispettata è quella che stabilizza i precari con oltre 36 mesi di servizio per favore ci risparmi l'ipocrisia di ringraziare i precari perché avete approvato un emendamento che li licenzia in caso di lockdown e dovrebbe solo vergognarsi almeno non parli di insegnanti parli di altro allora invece fino ad oggi noi ci aspettavamo qualche risposta invece nessuna certezza nessuna risposta chiara per gli studenti le famiglie i lavoratori anzi nei confronti di questi ultimi c'è un vero e proprio atteggiamento punitorio vessatorio con le mancate stabilizzazioni come dicevo prima con delle nuove valutazioni che stravolgono in maniera detroitiva il punteggio acquisito nelle nuove graduatorie che lei ha voluto a tutti i costi a proposito la informo che il portale per presentare le domande va in tilt ogni giorno per le graduatorie provinciali quindi cortesemente se può dire ai suoi tecnici di provvedere o almeno proroghi la scadenza delle domande fissata per il 6 agosto a settembre sarà caos lo sanno tutti lo titolano i giornali se ne parlo ovunque lei ha parlato di coraggio e di capacità ministro qualità che sinceramente cominciamo ad avere qualche dubbio che lei ne sia in possesso ci vorrebbe un investimento straordinario un piano straordinario di edilizia scolastica non parli per favore di edilizia leggera perché qui ci sarebbe bisogno di edilizia pesante a proposito ministro tra i miei colleghi ci sono molti sindaci sarà un caso ma nessuno di loro ha ricevuto un euro e nessuno di loro sa come fare a lavorare nelle nostre scuole magari saremo noi a sbagliarci poi lo dico verso tramite anche a presidente Gallo se davvero vogliamo eliminare le classi pollaio bisogna sia allargare gli spazi ma anche assumere più docenti riducendo il rapporto docente basta una norma attualmente la media è di 1 su 28 riduciamolo a 1 a 16 all'unico così cogliamo due piccioni con una fava eliminiamo le distanze e miglioriamo la didattica valorizzando le eccellenze e recuperando le raccune siete a governo avete la maggioranza datevi da fare queste sono le proposte semplici presidente chiare che la Lega ha proposto da ormai cinque mesi con emendamenti che però sono stati puntualmente bocciati oggi sfruttiamola sì questa emergenza per migliorare una volta per tutte la nostra scuola ma anziché cogliere l'occasione il governo e lei ministro Azzolina avete perso cinque mesi a parlare del nulla a sparare dichiarazioni e poi a smentirle ad attaccare gli insegnanti ad attaccare Salvini lo avete fatto ancora oggi e a scaricare ogni responsabilità sui dirigenti scolastici voi ci avete risposto così ministro lei in principio ebbe l'idea di dividere le classi a metà una parte davanti al computer a casa l'altra in classe idea poi smentita poi fu la volta del plexiglass smentita anche questa poi lei ci ha parlato del 15% degli studenti da tenere fuori dalle scuole delle ore di lezione da 45 minuti delle lezioni nel cinema poi precari assunti e licenziati in caso di lockdown per favore smentisca anche questa perché sennò sarebbe davvero una tragedia per la scuola italiana ma arriviamo alla madre di tutte le corbellerie i banchi a rotelle ministro Azzolina io capisco che per il movimento 5 stelle ci sia una passione innata per le rotelle dai monopattini per cui vorreste spendere 140 milioni di euro ai cosiddetti banchi rotanti però per cortesia innanzitutto fateci sapere quanto intendete spendere poi non entro nella polemica del bando perché per me hanno parlato chi li produce chi li costruisce è impossibile pensare a produrre tanti milioni di banchi in quattro settimane mi viene in sospetto che i vostri acquisti vogliano prendere la via della Cina ma ce lo dovete dire lo dovete dire qui adesso ce lo dovete dire quanto intendete spendere avremo le scuole che cadono a pezzi colleghi le scuole senza laboratori le scuole senza palestre ma con i banchi rotanti va bene mi avvio la conclusione ministro non è così che si risolvono i problemi della scuola non è sperperanno il denaro pubblico licenziando i precari senza ascoltare mai nessuno vede ministro sbagliare umano ma le critiche o si risponde con i fatti o è meglio tacere dinanzi all'evidenza l'evidenza della sua totale inadeguatezza e incapacità a gestire la scuola italiana lei ha risposto alle critiche come fanno i bambini della scuola elementare con l'autovalutazione si insegna in terza elementare solo che nel suo caso l'autovalutazione mi pare sia stata alquanto generosa nel caso perché lei si è definita come il miglior ministro possibile un tantino di umiltà non guasterebbe sono parole sue guardi per concludere signor presidente per rispondere che io voglio parlare di scuola non voglio parlare di altro però mi consenta di difendere il mio segretario di partito perché se Salvini e la Lega l'ha attaccata ministra Azzolina non è come lei ha dichiarato perché lei è giovane è donna si veste in un certo modo assolutamente guardi non le voglio dispiacere non la voglio illudere ma le confesso che noi la attacchiamo e facciamo opposizione semplicemente perché lei è incapace e inadeguata al ruolo di ministro dell'istruzione visto che mi avanzano giusto 20 secondi ministro visto che il movimento 5 stelle ha sempre parlato di trasparenza e di legalità ci sono 3.000 suoi aspiranti colleghi non 3.000 aspiranti ministri 3.000 aspiranti dirigenti scolastici che sono stati bocciati al concorso in cui anche lei ha partecipato legittimamente quando era parlamentare della commissione scuola loro ritengono di essere stati bocciati legittimamente c'è un ricorso pendente al tarlo hanno già vinto a giorni dovrebbe uscire la sentenza del consiglio di stato però visto che lei ha fatto sempre della trasparenza una bandiera perché continua ad opporsi al diritto di accesso agli atti se sono stati bocciati è giusto che vedano anche il compito di quelli che sono stati promossi così a scanso di equivoci dimostreremo che chi va a fare il dirigente scolastico nelle scuole italiane se lo merita compreso lei chiesa di intervenire la deputata Prea ne ha facoltà prego grazie presidente colleghi ministra Zolina preso atto a sorpresa che i suoi modelli sono niente meno che moro e falcucci della prima repubblica sono molte le questioni che preoccupano Forza Italia innanzitutto le parla di investimenti e non tagli riferendosi polemicamente alla legislatura dal 2008 al 2011 ma la crisi finanziaria del 2008 ministra determinò un collasso nell'economia del nostro paese analogo a quello attuale e allora vigevano strette regole europee di bilancio sul rapporto a debito PIL oggi dopo la pandemia l'Europa per la prima volta nella sua breve storia ha deciso di superare queste rigide regole e di prevedere perfino ulteriori prestiti per i paesi più colpiti come il nostro con il piano Next Generation EU l'Italia potrà dunque disporre di maggiori fondi europei il che è un bene ma sono a debito debiti ministro che lei lascerà proprio agli studenti oggi seduti tra i banchi visto che la restituzione dei fondi che sta ora elargendo senza alcun progetto di lungo periodo alle scuole avverrà dal 2026 al 2036 allora non faccia paragoni impropri con un tempo il 2009 che fu non meno difficile per tutti noi ma soprattutto ministra è necessario oggi una vision strategica per trasformare l'emergenza in opportunità ed attuare un cambio di passo nel paradigma organizzativo e formativo del novecento no non ci vuole coraggio ci vuole audacia questo è il momento delle scelte audaci al contrario tempo prezioso è scivolato tra le sue mani senza che il paese abbia ancora chiaro cosa succederà al settembre e neanche stamattina l'abbiamo capito questo è più grave che non sembra proprio saperlo nemmeno lei ministra stiamo vivendo all'ombra di un grande punto interrogativo dietro il quale temiamo si nasconde solo il caos partiamo dagli spazi mancanti le ha suggerito alle conferenze di servizio di utilizzare anche spazi alternativi come musei cinema teatro e biblioteche diciamo che ci sta bene non ci sta per niente bene tranne in qualche caso davvero eccezionale come il museo nazionale della scienza e della tecnica di tecnologia di milano quello che ha citato lei in realtà ascoltate per favore ascoltatemi bene colleghi in realtà quasi tutte le scuole secondarie superiori hanno già deciso di fare ricorso alla DAD a giorni alterni immagino anzi sono certa che questo lei sia stato comunicato nelle visite regionali che sta effettuando e anche se lei si guarda bene dall'accennare a questa soluzione scelta dalle scuole superiori le famiglie saranno presto informate che a rotazione i loro figli resteranno a studiare a casa facendo ricorso alla DAD e cosa più grave il ministero non ha ancora definito le linee guida per la didattica integrata e continua a ignorare che la modifica degli orari di lezione di modalità di apprendimento di utilizzo dei docenti con gruppi di alunni e non più esclusivamente sulle vecchie classi richiede deroghe ministri deroghe alla quota di autonomia degli istituti scolastici lei oggi l'ha citata ma noi l'abbiamo fatta noi questa norma noi che siamo in Parlamento da ancora da tanti anni ma lei oggi deve dare una deroga a quella a quella quota di autonomia che deve passare dal 20 ad almeno il 40% anche perché c'è una validità del tempo scuola lei ha fatto un'ordinanza i 200 giorni di lezione come si poteva fare in qualsiasi momento ma lei deve dirci quali giorni saranno validi in presenza ma anche a distanza proprio perché quella sarà la realtà di molte scuole secondarie superiori ha volutamente ignorato la ricognizione degli spazi educativi nelle scuole paritarie del nostro paese che potrebbero offrire invece soluzioni adeguate agli alunni in esubero rispetto ai vincoli post covid-19 ci ha pensato alla diocesi di Milano che ha pubblicato sul proprio sito internet le linee guida per mettere a disposizione delle scuole gli oratori parrocchiali per realizzare una scuola diffusa un'altra occasione mancata da parte sua Ministra Zolino peraltro per motivi ideologici di rendere in maniera plastica più integrato il sistema scolastico italiano ha perso tempo prezioso Ministra anche nella mancata formazione dei docenti ad una scuola che in presenza della rivoluzione digitale non potrà più essere quella del pre-covid ma ha perso soprattutto l'occasione di introdurre con una selezione rigolosa gli insegnanti tuto la figura dell'insegnante tuto indispensabile per governare i piani di studio personalizzati di uno stesso gruppo di studenti per integrare apprendimenti in presenza in learning nei luoghi nel formale e non formale secondo proprio le indicazioni della Commissione Bianchi inquietanti poi le scelte da lei compiute nella gestione dei docenti con buona pace della continuità didattica ad oggi risultano ben 250.000 posti vacanti colleghi che andranno a supplenza e proprio perché il problema è come lei ha recentemente dichiarato in una trasmissione televisiva a Tavico lei aveva il dovere di bloccare a febbraio tutte le operazioni di mobilità e di assegnazione provvisoria per questo anno non di prendere provvedimenti che hanno invece aggravato le operazioni di avvio dell'anno scolastico insomma lei ha deciso di riaprire le scuole il 14 settembre ma in molte di esse troppe o ci saranno docenti sconosciuti agli studenti e alle famiglie o mancheranno i docenti e ciò soprattutto al nord quel nord che è stato più colpito dalla pandemia adesso riapriranno le scuole ma mancheranno i docenti grazie Ministro la dobbiamo anche ringraziare per questo anche perché a sorpresa ha deciso di riformare le graduatorie provinciali per il personale docente digitalizzandole ma cambiandone i criteri con ulteriori e imprevisti oneri per l'amministrazione per non parlare poi della soluzione davvero incomprensibile di effettuare una graduatoria provinciale per le supplenze al nord nelle scuole dell'infanzia e primaria con studenti di scienza della formazione lei dichiara avventurosamente l'ha fatto anche stamattina di avere in questo modo effettuato un ricambio generazionale Ministro riconsideri con realismo e senza demagogia questa sua valutazione lei sta creando nuovi precari mentre avrebbe potuto raggiungere tre obiettivi di riforma migliorare la formazione magistrale di questi studenti con contratti di apprendistato formativo di terzo livello noi l'avremmo applaudita ma contratti di apprendistato di terzo livello con tanto di tutor scolastico di tutor universitario avviare una radicale prospettiva di riforma della formazione dei docenti consentire questa opportunità non solo agli studenti del nord manca tutti gli aspiranti maestri italiani quelli di ruolo del nord vanno a fare i supplenti al sud lei lo sa perché gliel'ha permesso e quelli che invece studiano vanno a insegnare un caos un caos lei ha scelto a nostro avviso in modo miope e iniquo di risolvere un problema con la comodità amministrativa senza mostrare alcuna attenzione alla qualità formativa che è quella che ci interessa che ha sempre distinto Forza Italia e le sue politiche scolastiche costringe questi studenti supplenti ad essere lavoratori mentre sono studenti ma che proprio in quanto lavoratori faranno ricorso tutti alle 150 ore del diritto allo studio e ai giorni di permesso per gli esami creando ulteriori problemi di sostituzione in più si è assunta la responsabilità di prevedere avvio a settembre delle diverse procedure concorsuali sempre in quel famoso settembre in cui le istituzioni saranno stressate questione gravissima dei collaboratori scolastici dei bidelli tutte le scuole d'Italia hanno chiesto un aumento dell'organico di queste figure ma il ministero non ha ancora indicato ai direttori regionali il range lei lo ha detto stamattina faremo diremo ma quando quando pensa di farlo ministro quando arriveranno le 50.000 assunzioni a tempo determinato se no che senso ha creare nuovi spazi per la didattica a tutto questo poi si aggiungono le criticità per i servizi di trasporto e mensa a questo proposito ministro avrà certamente saputo che il lunchbox che il comitato tecnico scientifico continua a suggerire a costi raddoppiati rispetto al servizio mensa e che in molti casi si arriverà ad una riduzione dell'orario scolastico o aumenti di costi delle famiglie a conoscenza di questi problemi perché non ne parla o crede che il cerino acceso debba rimanere nelle mani dei sindaci dei dirigenti scolastici delle famiglie mi avvio la conclusione e poi o l'autonomia le serve solo per la certificazione dei banchi come vuole lei questa è la questione dei nuovi banchi lei ha una strana concezione dell'innovazione della scuola se pensa che una sedia o un banco basti per cambiare la didattica questa è un'innovazione che è entrata nella nostra Europa già dieci anni fa con le future classroom di European Schoolnet ma non è questo una novità e presentarla ora come un elemento in grado di innovare la scuola è incredibile e dimostra quanto lei non abbia idea di cosa serve la scuola per innovarsi un paese serio avrebbe dovuto costruire un progetto industriale piuttosto che improvvisare una gara dall'ultimo momento alla quale le aziende italiane hanno già detto che non potranno partecipare per i tempi previsti dalla gara eppure lei il tempo l'ha avuto e avrebbe dovuto usarlo per favorire l'innovazione non buttare miliardi in soluzioni improvvisate che non guardano certo al futuro non è solo con un tablet in più o con un banco nuovo che cambieremo la qualità della scuola italiana forse tale convinta che a settembre la scuola non cambierà rispetto a pre-covid ripartirà con molti più problemi di prima e quali come sempre faranno fronte con responsabilità e grande disponibilità i dirigenti i docenti il personale ATA che ringraziamo fin d'ora ma ancora troppo poco per la nostra scuola e l'ultima chiamata ministro non perda altro tempo basta burocrazia autoreferenzialità centralismo modelli da caserma investiamo in campus e in futuro o se ne pentirà ascolti Forza Italia finché in tempo grazie che si può intervenire la deputata di Giorgi prego grazie presidente onorevoli deputati signora ministra ho ascoltato con molta attenzione la sua informativa perché come lei e come tutto il governo che noi del partito democratico sosteniamo ho a cuore la nostra scuola e sono convinta che si debbano mettere in campo tutte le energie e le intelligenze oltre che le risorse economiche e di personale per poter riaprire in sicurezza e far sì che i nostri bambini e i nostri ragazzi possano esercitare al meglio il proprio diritto all'istruzione bene ciò che abbiamo appreso oggi le linee guida per la fascia 06 che come sa bene ci sta molto a cuore cui state lavorando con la viceministra Scani che mi sembra stiano per essere emanate voglio ringraziare qui tutto il mondo della scuola che ha affrontato questa prova così inedita così difficile con grandissima generosità i nostri insegnanti innanzitutto i dirigenti scolastici il personale ATA lei qui li ha citati li ha ringraziati siamo d'accordo impegnati a rispondere a mille problemi mai affrontati prima in raccordo appunto con il corpo docente e le famiglie una grande difficile e a volte non riuscita purtroppo prova collettiva che ha coinvolto milioni di persone questo lo dobbiamo sempre tenere presente qualche volta ce lo dimentichiamo in tutti i territori del nostro paese le famiglie sono state protagoniste e questo lo dobbiamo dire hanno seguito i propri figli spesso senza i mezzi tecnologici per farlo a causa di ritardi che ancora registriamo in merito alla disponibilità capillare della banda larga in tutto il nostro territorio e a questo dobbiamo provvedere oppure a causa di problemi di natura diversa legate alle condizioni socio-economiche delle famiglie sono emersi i limiti del nostro sviluppo a livello tecnologico certamente ma anche a livello sociale i nostri bambini più poveri uso questo termine scegliendolo perché di povertà vera si tratta sono stati ancora una volta penalizzati come i bambini e i ragazzi con disabilità che hanno dovuto fare a meno del supporto essenziale che l'ambiente scolastico e gli insegnanti oltre che le comunità di sostegno mettono in campo nei periodi di cosiddetta normalità tutto ciò ministra significa un solo grande imperativo tornare in classe proprio per rispondere a queste difficoltà tornare con i propri compagni tornare nel proprio ambiente senza prendere scorciatoie senza temere di non essere all'altezza impegnandosi fino in fondo col cuore e con l'anima i ragazzi devono tornare a scuola mi pare che questo lei oggi l'abbia detto che l'impegno sia questo e su questo naturalmente ci confronteremo e seguiremo ciò che succederà tutti devono essere coinvolti per questo obiettivo il governo nella sua generalità quindi il presidente del consiglio che tra le priorità deve avere la scuola guai guai a lasciare il ministro dell'istruzione da solo è una prova collettiva quella che dobbiamo affrontare ed è tutto il governo in campo servono risorse tante tante ne sono state messe in campo ma serve senso di responsabilità da parte di tutti nel comprendere che occuparsi della riapertura della scuola è tra le questioni più importanti di tutto il governo dal presidente del consiglio fino al ministro dell'economia al ministro della salute per giungere al comitato tecnico scientifico se la nostra priorità è quella di riaprire le scuole mandando i ragazzi il più possibile a scuola mandandoceli tutti perché questo deve essere il nostro obiettivo poi le altre sono soluzioni alternative necessarie se dovranno esserlo ecco se l'obiettivo quindi deve essere quello di far tornare tutti tutti in classe tutti in classe devono tornare e allora c'è bisogno anche di un apporto diciamo da parte del comitato tecnico scientifico se vogliamo mantenerla all'unità della classe so che ci sono esperienze diverse anche a livello internazionale in Germania vanno due giorni a scuola due giorni stanno a casa noi secondo me dobbiamo fare meglio noi dobbiamo mantenerla all'unità della classe perché è lì dentro che si gioca la socialità ed è lì dentro che i ragazzi possono crescere bene ecco allora se noi vogliamo questo dobbiamo forse fare qualcosa di più quindi c'è bisogno di una flessibilità maggiore una flessibilità che devo dire registriamo in tanti altri ambienti in tanti altri ambiti della nostra società dopo il lockdown beh forse devo posso pensare che ci sono interessi diversi che premono con più forza rispetto al mondo della scuola ci vuole un po' più di flessibilità quando si parla io ho già parlato di questo col ministro ma lo ripeto qui quando si parla degli 80 centimetri che forse per migliaia migliaia di luoghi e di licei di scuole superiori in particolare risolverebbero il problema rispetto al metro di distanziamento ecco io credo che bisogna che si debba considerare con attenzione anche questo proprio relativamente all'autonomia di cui lei parlava nei vari territori ci sono esigenze diverse ci sono luoghi diversi edifici diversi e quindi le scuole dovranno attrezzarsi ecco c'è bisogno comunque di una collaborazione anche su questo dal ministero della salute e dal comitato tecnico scientifico quindi io penso che si possano garantire la sicurezza si possa garantire la sicurezza all'interno della scuola con la necessaria accortezza che i dirigenti scolastici e gli insegnanti secondo me possono tranquillamente garantire anche se non c'è un qualche centimetro in più di distanza se poi la situazione epidemiologica non desse tregua cosa che ovviamente nessuno di noi si augura è necessario che quella responsabilità di cui dicevo sia esercitata da tutte le comunità locali lei l'ha già citato questo e io lo ribadisco i sindaci tutti i soggetti del territorio i presidenti di provincia trovino spazi per la nostra scuola chiamino loro le associazioni di categoria i privati gli alberghi tutti coloro che hanno luoghi da mettere in campo ambienti adatti o adattabili per le classi deve esserci un impegno della comunità un impegno delle istituzioni e noi naturalmente come partito democratico mettiamo a disposizione tutta la nostra rete dei nostri sindaci che sono abituati a fare comunità nel loro territorio e quindi a dare ciò che serve a mettersi in campo ad esempio lei l'ha citato già a Firenze c'è il teatro della Pergola che ha già messo a disposizione i propri spazi oppure a Milano il Museo della Scienza e sappiamo anche che il MIBAT ha già trasmesso l'elenco dei luoghi da arte dei musei eccetera dove si può andare a fare scuola sempre che sia necessario cioè sempre se non possiamo evitarlo quindi facciamo il nostro lavoro nei territori anche noi colleghi parlamentari anche noi siamo protagonisti e dobbiamo esserlo in questo dobbiamo parlare con i nostri sindaci dobbiamo aiutare la rete delle scuole a trovare luoghi perché tutti siamo coinvolti è un cammino questo che ci appartiene che ci deve appartenere certamente noi del Partito Democratico ci occupiamo di scuola da sempre abbiamo aumentato i finanziamenti in un modo impressionante il 600% sull'edilizia scolastica dal 2014 in poi sono cose vere sono cose reali che abbiamo messo in campo quindi a noi la scuola interessa e interessa moltissimo e quindi abbiamo assunto oggi dalle sue parole ministro ulteriori elementi di conoscenza e di riflessione noi appunto siamo in prima fila perché vogliamo che nessuno rimanga indietro ogni comune il comune più piccolo più distante dalle grandi vie di comunicazione deve essere trattato e quindi deve avere i suoi ragazzi nelle classi sono i bambini e i ragazzi italiani il nostro obiettivo è questo ciò che noi vogliamo i nostri scolari i nostri studenti dobbiamo farli tornare a scuola in una scuola che deve essere anche una nuova scommessa per noi una grande sfida una scuola che grazie agli ingenti investimenti che stiamo effettuando e che continueremo a mettere in campo dovrà essere migliore non deve essere la scuola perché che abbiamo sempre avuto deve essere una scuola con un plus di innovazione quindi finisco presidente dovrà essere migliore questa scuola dovrà rispondere alle esigenze formative dei ragazzi sia per quanto riguarda le edilizie scolastiche qui veniamo anche al tema che ci interessa di più e sul quale abbiamo investito moltissimo ribadisco sia per i modelli formativi che devono essere sempre più all'altezza delle nuove sollecitazioni della modernità non capisco collega Prea per quale motivo si debba pensare che siamo fermi che non faremo niente di meglio avremo molte risorse a disposizione quindi probabilmente anzi sicuramente riusciremo a dare dei modelli innovativi le scuole dovranno essere connesse alla rete la didattica digitale dovrà esserci scuole digitalizzate non certo didattica a distanza non confondiamo le cose ma scuole che usano le nuove tecnologie laboratori sempre più attrezzati le palestre gli spazi gioco e poi una cosa che a noi del Partito Democratico interessa moltissimo proprio perché risponde a quelle nostre esigenze che sono quelle dell'inclusione noi vogliamo e su questo io chiedo un impegno forte al Ministro vogliamo tenere aperte le scuole il pomeriggio in tutte le parti d'Italia questo è importante perché se non facciamo questo i nostri ragazzi sono abbandonati e se non lo facciamo in un momento così è il post-covid è il momento in cui probabilmente non ci sono mai state tante risorse come ne saranno messe in campo anche per la scuola oltre che per gli altri settori ecco se non la facciamo adesso questa scelta probabilmente non la potremo fare più ecco allora il pomeriggio curiamo tutto questo perché i ragazzi devono essere seguiti nel tempo libero e devono essere aiutati a crescere quindi con queste risorse noi potremmo farcela vorremmo riuscire a farcela comunque noi saremo in prima fila noi ci vedrà in prima fila per difendere proprio prima linea perché la vivo anche un po' come una battaglia difendere il diritto della nostra scuola il diritto dei nostri bambini e il diritto soprattutto di avere una scuola in presenza lei l'ha detto più volte nel suo intervento questo è l'obiettivo anche nostro e su questo ci impegniamo tutti grazie Presidente onorevoli colleghi ministro in questo lungo periodo di pandemia tutti hanno scoperto l'imprescindibile funzione della scuola Fratelli d'Italia ha sempre cercato di intervenire per tutelare e salvare il nostro sistema educativo lo abbiamo fatto presentando interrogazioni mozioni ordini del giorno che spesso anzi più delle volte sono rimasti in evasi lo abbiamo fatto proponendo forse come primo partito una graduale riapertura all'inizio della fase 2 della pandemia così come era stato fatto negli altri paesi europei ma anche questa nostra proposta è rimasta inascoltata abbiamo cercato di aiutare le famiglie le famiglie italiane che si sono trovate a dover gestire i loro figli in una situazione di emergenze in condizioni difficili abbiamo cercato di tutelare gli studenti disorientati per essere stati tanti mesi lontani dalle loro scuole abbiamo cercato di tutelare i presidi il personale scolastico e gli insegnanti ai quali Fratelli d'Italia fa un grande ringraziamento per aver saputo tenere tra mille difficoltà un contatto con i loro alunni tra le tante critiche che si potrebbero fare ministro sono due a nostro avviso i fatti più gravi la confusione e il ritardo negli interventi la confusione spesso è stata totale voglio qui ricordare ma senza polemica ma perché sono fatti oggettivi accaduti le sue dichiarazioni relative alla didattica mista poi subito smentite quelle sulle barriere in plexiglass poi subito smentite potrei continuare le famiglie cercavano e cercano ancora chiarezza e continuano ad arrivare a nostro avviso messaggi troppo confusi per fortuna che almeno sulla necessità di salvare le scuole paritarie c'è stato un comune sentire ma si è dovuto ancora una volta spiegare che la Costituzione prevede un sistema pubblico costituito da scuole statali e da scuole paritarie a nostro avviso non è ancora abbastanza perché andrebbero siglati i patti educativi per modulare meglio il sistema integrato per quanto riguarda l'utilizzo degli spazi ancora oggi e siamo già a fine luglio arrivano messaggi confusi sulle modalità di apertura sulle linee guida che non hanno ancora riscontri di fattibilità e sui protocolli di sicurezza doppi turni spazi alternativi per le lezioni servizi post scuola docenti personale esterno su questo nessuna indicazione chiara ancora non c'è la certezza di una regolare apertura e quando dico regolare mi riferisco al fatto della possibilità che causa le turnazioni i genitori possono passare metà della mattinata ad accompagnare i figli a scuola questo non è tollerabile perché le famiglie lavorano e non è possibile che abbiano davanti un futuro così incerto mi riferisco alle classi pollaio che non sono ancora totalmente sparito mi riferisco alla mancanza di protocolli di sicurezza e al rischio di un diritto all'istruzione a doppia velocità per quanto riguarda i ritardi purtroppo sono sotto gli occhi di tutti tutto quello che lei ha detto oggi ministro io temo che sia stato effettuato troppo in ritardo e mi riferisco al reperimento dei nuovi spazi alla ristrutturazione di scuoli decadenti e vetuste perché il nostro è un patrimonio di edilizia molto molto vetusto nel decreto scuola Fratelli d'Italia aveva presentato un emendamento naturalmente rigettato dove si chiedeva l'accelerazione dell'instaurazione dei rapporti tra gli enti locali e le scuole e questo era importante ma era importante farlo prima io ho sentito oggi da lei che ci sono ovviamente degli incontri e delle riunioni tra enti locali e scuole ma è tutto troppo tardivo e molti studenti rischiano di non trovare posto a scuola e si ipotizza di tornare alla didattica a distanza che ha amplificato le disuguaglianze nel nostro DNA la scuola è un ascensore sociale di ugualianze questo ha sempre pensato la destra e continua a pensarlo quindi la didattica penalizza chi non ha la possibilità di avere la banda larga o il computer e quindi penalizza lo dico purtroppo gli studenti più poveri le famiglie più poveri sono troppo esagerata? non credo ecco come Repubblica oggi definisce la situazione il prolungamento della chiusura che ha distinto l'Italia dagli altri paesi europei invece di servire per attrezzarsi meglio per la ripresa è servito solo per ritardare colpevolmente ogni decisione in uno scaricabarile inaccettabile tra ministero e comitato scientifico ministero e presidi ministero e sindacati con esito finale di scaricare ogni problema sui bambini e sui ragazzi e le loro famiglie questo non lo dice Fratelli d'Italia lo dice oggi la Repubblica per non parlare poi dell'emergenza delle catetre vuote per la mancanza di organi che questo perché non si sono voluti stabilizzare i docenti precari quegli insegnanti con anni di servizi e titoli idonei per insegnare preferendo a loro in alcuna occasione i studenti universitari che penso che siano preparati ma che non hanno ancora il titolo questo lo troviamo assurdo come assurdo è stata la situazione di tanti docenti in questo periodo discriminati mi riferisco a quelli di religione a quelli delle scuole paritarie ai diplomati magistrali agli insegnanti della formazione professionale in questo quadro la questione dei banchi autoscontro è solo la ciliegina sulla torta Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione in commissione ma le risposte sono state vaghe non sono corbellerie ministro io devo dire che le modalità della gara di appalto è stata criticata non dai politici ma anche dalle case produttrici italiane di arredo scolastico e non entro nel merito del costo esorbitante di questi banchi perché abbiamo molte scuole con delle gravi emergenti di edilizia scolastica io voglio sollevare un altro problema e fare una domanda cosa c'entrano questi banchi col distanziamento io penso che questi banchi a rotelle favoriscono invece l'assemblamento caotico in classe e temo temo che la verità sia un'altra che ci sia la volontà di imporre un nuovo tipo di didattica la didattica 2.0 ma si può fare c'è bisogno di innovazione ma va fatta la luce del sole con un dibattito con un dibattito in Parlamento coinvolgendo le parti sociali non possiamo escludere la presenza di libri e quaderni non è questa la scuola che piace a fratelli d'Italia innovazione sì ma libri e quaderni sui banchi dei ragazzi per farli studiare non si può imporre una riforma della scuola una riforma che è necessaria ma che come dicevo prima va discussa abbiamo bisogno di rimettere al centro la trasmissione del sapere rivalutando lo studio delle conoscenze senza ridurre la cultura a una somma di mere competenze abbiamo bisogno di giovani che sviluppino lo senso critico e creatività e che sappiano riscoprire il vero senso dell'apprendimento in una scuola che resti soprattutto un luogo di studio e di pensiero una nazione che vuole disegnare il suo futuro deve farlo costruendo il suo progetto educativo è una sfida troppo importante per la quale fratelli di Toalle continuerà a combattere deputato Toccafondi prego grazie presidente ringrazio il ministro Azzolina saranno 200 giorni con settembre che 9 milioni di bambini di ragazzi di adolescenti saranno senza scuola è una cosa mai avvenuta in questo in questo paese basta questo dato per comprendere la situazione in cui ci troviamo di fronte signor ministro abbiamo ascoltato con attenzione il suo intervento siamo coscienti della necessità della riapertura della ripartenza siamo stati primi guardi ci hanno dato di incoscienti almeno a fine marzo e avevamo parlato di riapertura a maggio quindi sappiamo bene come sia e quanto sia importante il tema della riapertura della scuola non so se altri paesi come lei ha ricordato ci hanno preso a modello di sicuro sappiamo per sano realismo che non è andato tutto bene che non sta andando tutto bene e ad un mese dalla riapertura non siamo affatto sicuri che andrà tutto bene se c'è un dato positivo in questo lockdown lunghissimo della scuola e penso ci sia è che ci siamo resi conto di quanto importante sia la scuola non semplicemente un insieme di nozioni ma un percorso educativo fatto per i ragazzi e allora ripartiamo da qui ripartiamo da questo aspetto ci siamo quasi svegliati come da un torpore in questo paese però se vogliamo ripartire da qui serve un dibattito ma serve un dibattito vero su cosa vogliamo possa fare la scuola per i nostri ragazzi di sicuro non servono i populisti che urlano hanno sempre la verità in tasca non la tirano mai fuori ci dicono che sbagliamo ma poi non trovano mai una soluzione serve invece la politica la politica che vede la realtà sano realismo affronta i problemi perché ci sono cerca soluzioni non semplici e in prospettiva ha una prospettiva ha una visione cioè vuole dialogare sul tema delle riforme tra un mese che sia il primo di settembre o il 14 settembre la scuola riapre bene il problema è come perché non può ripartire smembrando le classi non può ripartire con la didattica a restanza non può guardi ministro ripartire neppure con intere classi in un cinema in un teatro in un auditorium non è scuola quella quella è cinema auditorium e teatro lo ribadiamo perché ci crediamo per riaprire in maniera concreta e corretta un anno scolastico occorre prima di tutto rivedere le linee guida del comitato tecnico scientifico scritte a maggio su dati clinici di maggio altrimenti rischiamo il caos e rischiamo il caos in un momento in cui a settembre questo paese dovrà affrontare altri temi e penso soprattutto alla ripartenza e alla ripresa economica e anche al disagio sociale che vediamo e ad un mese dalla riapertura sono tanti temi da risolvere io faccio solo due esempi sarebbero tanti primo in una situazione già normale conosciamo la necessità e l'utilità degli insegnanti di sostegno nel percorso scolastico sappiamo che ne mancheranno almeno 20.000 adesso neppure sappiamo se i ragazzi con disabilità rientreranno e tutti a scuola con quali percorsi oppure dovranno proseguire con una didattica online l'attenzione sul tema della didattica in presenza soprattutto per i ragazzi con disabilità è fondamentale altro tema mense palestre trasporti e soprattutto trasporti non sono temi come dire accessori rispetto al percorso educativo sono temi fondamentali del percorso educativo senza trasporti non si segue la scuola perché non ci si arriva e così e penso ai più piccoli senza le menze o le palestre allora ad oggi ad un mese dalla riapertura delle scuole sono tante troppe le incertezze anche su questo punto lei ha parlato delle risorse bene 2,9 milioni miliardi di euro stanziati o che arriveranno è un buonissimo una buonissima notizia ma non bastano paradossalmente questi soldi soltanto questi soldi o anche paradossalmente altri soldi per garantire la riapertura l'abbiamo visto finora e nemmeno per garantire la qualità del percorso formativo ed educativo la qualità del percorso educativo non passa semplicemente dagli arredi dai tablet certo sono fondamentali sono utili ma non basta questo per garantire la qualità del percorso educativo e nemmeno le sanatorie oppure la riconversione di un auditorium con l'edilizia scolastica leggera in due o tre aule serve un dibattito in questo paese e un approfondimento su cosa vogliamo possa diventare la scuola e possa essere la scuola come percorso educativo vogliamo davvero investire sulla scuola allora ci vuole urgentemente un adeguamento dello stipendio una valorizzazione della professionalità dei docenti un percorso di formazione adeguato un concorso ogni due anni partendo dalla certezza che non tutti possono fare l'insegnante perché è un lavoro non semplice il governo Renzi su questi temi era intervenuto ma dopo e non voglio fare polemiche qualcuno ha usato tutto il tempo disponibile al ministero per demolire qualsiasi cosa avesse fatto il governo Renzi sul tema scuola e così ci siamo trovati oggi con una babele formativa senza certezza allora serve cambiare certo lo abbiamo ribadito ma servono soprattutto riforme vere serve un percorso formativo e un concorso stabile serio perché ci saranno altrimenti ci saranno sempre e solo precari e rischia di andare in classe anche chi non ha mai informazione adeguata per un caso non per una scelta serve autonomia scolastica lo abbiamo visto a vent'anni dalla sua costituzione lo abbiamo visto in questi tre mesi ha funzionato la scuola perché ha funzionato l'autonomia scolastica andiamo in quella direzione senza personale ata non si riaprono le scuole non si garantisce sicurezza distanziamento sanificazione abbiamo bisogno di dirigenti scolastici motivati e che sentano fiducia e soprattutto dobbiamo togliere loro il peso della responsabilità penale c'è bisogno di una revisione profonda dei tecnici e dei professionali cioè della metà dei ragazzi che frequentano queste scuole perché le percentuali di abbandoni soprattutto in alcune aree del paese è drammatica questi ragazzi vogliono hanno una vocazione vogliono frequentare un certo tipo di scuola non vogliono frequentare un liceo ma si trovano a frequentare ad oggi un liceo mascherato e scappano e se un ragazzo scappa da un professionale dove va a finire domandiamocelo c'è bisogno infine di un piano di edilizia scolastica vera che esisteva ma lo hanno smantellato solo perché lo aveva fatto Renzi era l'unità di missione funzionava lo dicono i numeri a marzo quindi non ieri a marzo cinque mesi fa avevamo chiesto con urgenza che almeno partissero i lavori cantieri nella scuola edilizia scolastica ad oggi non mi sembra di aver visto non dico un cantiere iniziato ma neppure un cantiere quelli veri finito ma nemmeno un cantiere quelli veri partito la scuola è termino ha bisogno di progetti di visioni di idee certo della ripartenza ma di uno sguardo in avanti perché la scuola è fatta per i ragazzi per la loro crescita il loro percorso educativo per niente semplice lo vediamo anche in questi mesi per questo deve puntare al meglio non alla mediocrità e l'unica cosa da fare è certo investire ma volendo riformare la scuola a cui servono non i populisti i proclami e lo sdegno ma la politica le azioni e le riforme grazie questo interviene il deputato Fratoianni ne ha facoltà prego grazie signor presidente signora ministra come ho avuto modo di dire in occasione di altre informative di suoi colleghi di suoi colleghe rispetto alla situazione che stiamo affrontando e ai problemi che abbiamo di fronte io considero sinceramente il lavoro che i membri del governo stanno svolgendo in questo momento un lavoro molto complicato molto difficile per il quale ho grande rispetto proprio per questo glielo dico con sincerità io non considero una buonissima idea venire in Parlamento a definire sostanzialmente una corbelleria o un'accusa strumentale tutto ciò che non corrisponde perfettamente al punto di vista che lei ha qui legittimamente espresso specialmente quando è noto che su alcune questioni si sono aperti elementi di criticità in una discussione franca dentro quest'aula con le forze di opposizione come è naturale che sia e anche dentro alla maggioranza come è altrettanto naturale che sia senza che per questo perfino il rapporto il vincolo di realtà che dentro ad una maggioranza è dovuto venisse meno sono emersi in questi mesi anche dentro la gestione di questa crisi punti di articolazione nel nostro dibattito è noto arcinoto ci torno soltanto per dovere di cronaca e anche di verità come è noto abbiamo avuto posizioni diverse per esempio sul tema annoso dei precari delle precarie di questo paese non soltanto sulle modalità tecniche con cui selezionarli ma anche su un certo linguaggio su una certa cultura che ha accompagnato questo dibattito che io per esempio molti di noi molti di noi hanno ritenuto inadeguato ad affrontare un tema così delicato come quello che riguarda il lavoro oltre che la vita di migliaia di persone che continuano a tenere in piedi una scuola che per troppi anni non certo da lei o da questo governo è stata invece considerata una pietra di scarto nel dibattito pubblico definanziata umiliata spesso appunto messa ai margini di una discussione che invece avrebbe dovuto vederla al centro sempre più al centro di qualsiasi discorso guardi al futuro di questo paese ed è per questo che considero in questo caso non il suo intervento Ministra ne ho apprezzato il dettaglio ripeto io apprezzo sinceramente lo sforzo che lei sta facendo come quello che fa tutto il governo ma buona parte anche del nostro dibattito oggi è un dibattito un po' fuori centro diciamo la verità la scuola ripartirà ripartirà in presenza non sapremo come andrà non sapremo che cosa succederà che cosa succederà col primo contagiato in una scuola vogliamo dire parole di verità anche tra noi è utile forse farlo io sono padre di un bambino che ha fatto la prima elementare lo dico anche qui tra parentesi in questo scontro che è diventato il teatro a volte di una politica che registra il proprio piazzamento quasi geografico dentro quest'aula abbiamo forse perso di vista alcune questioni tutti concentrati sulla ripartenza riaprite prima riaprite dopo facciamo come hanno fatto di là poi abbiamo visto quelli che chiedevano di riaprire subito sono dovuti misurare col fatto che in tanti luoghi laddove si è riaperto sono dovuti tornare indietro di fronte alla dura realtà che il virus impone al netto di chi lo nega e si rifiuta di mettersi la mascherina anche laddove sarebbe obbligatorio farlo ma abbiamo perso di vista forse alcune cose mio figlio ha fatto la prima elementare quest'anno è un bambino fortunato perché viene da una famiglia che ha un po' di libri in casa che ha studiato che ha strumenti culturali io penso che avremmo dovuto pensare a che cosa fare per quei bambini per quelli più fortunati che comunque hanno subito un elemento di privazione sul piano formativo che io considero assai preoccupante e ha maggior ragione per quelli che invece vengono da situazioni di maggior difficoltà altro che la didattica a distanza che pure era necessaria non giriamo intorno che cosa dovevamo fare in quel momento era l'unico strumento possibile ma che quello strumento abbia fatto né più né meno che far aumentare in modo enorme le diseguaglianze che pure già lì stavano è un dato altrettanto incontrovertibile allora di questo abbiamo discusso poco ci siamo preoccupati del fatto che tutti dovessero sostanzialmente passare all'anno successivo era anche legittimo come fai a valutare in quella situazione qualcuno col metodo classico in cui hai valutato fino al giorno prima ma non ci siamo posti per esempio il problema in alcuni cicli in particolare in alcune classi di come provare ad evitare che quella dispersione formativa potesse diventare un problema anche negli anni a venire certo dal primo settembre si lavorerà all'integrazione ma tutti noi sappiamo non perché qualcuno ha cattiva volontà che non basterà fare quello allora lo dico così io penso che noi dobbiamo fare tutto il possibile perché da settembre le cose funzionino nel modo migliore possibile consapevoli però che continuiamo a confrontarci con un problema la cui dimensione è difficilmente diciamo risolvibile come si fa quando si accende o si spegne un interruttore quello lo faremo quando avremo strumenti che sul piano medico ci consentano di chiuderla qui e lo dico anche ai colleghi e alle colleghe non la risolviamo pensando di aggirare le questioni che riguardano il tema delle precauzioni perché non è che noi possiamo cavarcela dicendo sostanzialmente non ci abbiamo le strutture non ci abbiamo il personale e invece su questo qualcosa avremmo potuto fare dirò qualcosa in conclusione su questo punto quindi facciamo un po' così invece che un metro facciamo 80 75 perché allora diciamocela anche qui chiara facciamo 0 e vedrai che non c'è più problemi tutti in classe senza nessun problema di carattere logistico ma non può essere questo il punto dobbiamo anche qui fare tra noi un discorso di verità e sulla verità e concludo spero di usare anche meno del tempo che avevo a disposizione la dico dritta lei ha fatto molto bene a fare riferimento al recovery fund è uno strumento rilevante e potenzialmente decisivo per il paese io vorrei che su questo al più presto il governo e il Parlamento insieme decidessero una cosa netta chiara vogliamo stabilire che il 15% di quella somma ma lo stabiliamo con un atto parlamentare e del governo va come minimo garantito per l'investimento strutturale nella scuola nel percorso complessivo della formazione di questo paese della ricerca vogliamo discutere di questa dimensione del problema perché altrimenti continuiamo a girare attorno lei ha detto bisognerà chiudere con la storia delle classi sovraffollate col dimensionamento scolastico che è stato fatto in un certo modo nelle aree interne non solo a ragione quella che ha tocca fondi se poi non ci sono i dirigenti o se i dirigenti hanno troppo diventa un problema concreto la gestione e però io lo dico qui io durante il decreto rilancio ho presentato 3-4 emendamenti uno diceva 15 alunni per classe uno diceva rivediamo il dimensionamento quegli emendamenti sono stati prima accantonati e poi dimenticati manco votati non funziona così eppure già lì ce n'erano un po' di risorse non funziona così o noi cogliamo questa occasione non come la nevrosi di cercare la responsabilità della ministra Zolina o di qualcun altro se avremo un problema o del dibattito surreale sui banchi che vadate tanto surreale quando viene presentato come la soluzione del problema quanto è surreale quando viene presentato però come diciamo un elemento che accentua il problema adesso che qualcuno mi spieghi come la collega dei fratelli d'Italia che i banchi con le lottele sono brevi perché aumentano il congestionamento oppure che mi si presenti nei banchi come la soluzione del problema sono queste due cose che banalmente non si confrontano con la realtà i banchi vanno bene se ci sono banchi nuovi visto che ce li avevamo cadenti bene che arrivino non è però quello il punto allora utilizziamo questo momento sapendo che ci confronteremo con una condizione comunque che non sta tutta nelle nostre mani da qui a settembre perché questa è la verità per affrontare fino in fondo alcuni dei problemi storici della nostra scuola il tema del reclutamento come anche qui è stato ricordato è strano ma su due cose sono d'accordo con Toccafondi quindi è bene che lo dico anche in aula il tema del reclutamento per risolvere una volta per tutte quella questione precariato che vuol dire anche formare chi è nella scuola perché anche qui non è che c'è oggi e magari è arrivato da un percorso che non è quello che avremmo immaginato prendi gli dai un calcio e lo butti fuori anche perché non sei in grado di farlo per me è sbagliato e inaccettabile ma siccome per di più nessuno è in grado di farlo bisogna confrontarsi con questo e poi apriamo anche una discussione viva Dio in Parlamento pubblica nel Paese su che cosa dobbiamo studiare in questo tempo su come si ripensa la didattica complessivamente i suoi contenuti ho chiuso facciamo così questa discussione tutti e tutte insieme diventa più interessante e più utile per il Paese altrimenti ripeto sarà l'esercizio di un posizionamento sterile di una qualche nevrosi eccessiva inutile per la scuola e alla fine anche un po' noiosa per noi che la ripetiamo stancamente grazie Presidente il deputato Lupi prego grazie Presidente Signor Ministro c'è un dato che finalmente siamo qui a discutere a confrontarci con lei sulla scuola lo ha fatto in commissione ma quest'Aula è la prima volta che ci si confronta e siamo al 28 luglio ma c'è un dato che prima di tutte le riflessioni che possiamo darle ci ha preoccupato e continua a preoccuparci è al passato perché è un passato ma potrebbe ripetersi nel futuro il 10% dei ragazzi per 7 mesi non ha fatto assolutamente scuola sono 900.000 non è un dato nostro è un dato che è uscito dall'Ista sono 850.000 ragazzi che non hanno fatto neanche la didattica a distanza i ragazzi più deboli quelli più deboli economicamente o quelli più deboli da un punto di vista personale sono quelli che hanno pagato di più questa chiusura allora tre cose le vogliamo dire la prima ci ritroviamo a sette settimane dall'annunciata riapertura della scuola con un'unica certezza e quindi le chiediamo lei da ministro almeno forse di evitare questa certezza che dopo una settimana dalle riaperture della scuola la scuola richiuderà richiuderà perché ci sono le elezioni regionali i referendum e i ballottaggi allora lei è il ministro in quel governo si faccia partecipe del fatto che non è possibile che le scuole chiudano si prendano le università gli oratori le caserme dismesse si prendano altri luoghi ma non si permetta che alla riapertura della scuola dopo una settimana questa di nuovo venga questa di nuovo venga chiusa sarebbe un segnale deleterio si può fare glielo garantisco basta volerlo si è voluto quella data secondo me in maniera sbagliata in ogni caso a questo punto non siano ancora una volta i nostri ragazzi a pagarla ridiamo quanto prima ai nostri ragazzi e alle loro famiglie ciò che gli è stato tolto in questi mesi prima per un'oggettiva esigenza poi per una esasperazione del principio di precauzione misto alla incapacità di assumersi responsabilità e all'indolenza di chi i problemi li sa solo rimandare io le dico le do questa raccomandazione non voglia che dietro questo atteggiamento ci sia l'acquiescenza verso quei settori del mondo scolastico e ministeriale per cui l'attenzione ai ragazzi e la loro formazione è l'ultima preoccupazione mentre sono abituati da decenni a considerare la scuola solo nel suo aspetto di contenitore occupazionale secondo messaggio noi abbiamo chiuso le scuole quando tutto il resto dell'Europa le riapriva il tema delle disposizioni del comitato scientifico non è un tema formale è un tema sostanziale ci ritroveremo il 28 luglio nella situazione di incertezza dalle quali potevamo non essere con l'esperienza alle spalle di altri paesi avremmo potuto vedere che grazie appunto all'esperienza anche i nostri i bambini raramente contraggono il virus e quando succede quasi sempre in forma lieve e che più raramente ancora la trasmettono che le disposizioni anticontaggio sono indispensabili assolutamente indispensabili in particolare in alcuni casi ad esempio con i più grandi e meno in un altro che le paure per il covid ci ha distratto dall'attenzione vera alle altre cause di mortalità nell'infanzia che si sono dimostrate per i più giovani ben più numericamente micidiali consiglio la lettura del documento pubblicato ieri ma credo che lei l'abbia visto del professor Remuzzi pubblicato dal Corriere della Sera che confronta tra loro le situazioni dei numerosi paesi che le scuole le hanno riaperte da tempo addirittura non le hanno mai chiuse noi invece siamo ossessionati dalla paura dall'ossessione spacciata per scientifica quando invece si tratta di una precisa scelta culturale se non politica viviamo nell'attesa del rischio zero ma non c'è il rischio zero non esiste e allora non trova singolare signor ministro che i nostri ragazzi possano ritrovarsi ovunque tranne che a scuola terzo messaggio non abbiamo ricette da indicarle ma un'indicazione di metodo sì si conceda vera autonomia alle scuole non è uno scarico di responsabilità lei lo ha accennato nel suo discorso ma è realismo è l'unica strada per risolvere i problemi che hanno dimensioni e caratteristiche diverse nelle varie regioni del paese lasci stare i bandi centralizzati per i banchi a rotelle che in alcune situazioni possono servire e in altri no dia alle scuole le risorse che servono per avviare l'anno scolastico regolarmente le supporti nei controlli risultati ma le lasci liberi di dare agli studenti che le frequentano le loro famiglie le risposte più adatti ai problemi che hanno e concludo in questi mesi lei e noi abbiamo riscoperto il valore della scuola della scuola pubblica cioè della scuola statale e di quella paritaria abbiamo riscoperto che lo scopo della scuola è accompagnare i ragazzi nella loro crescita e che è centrale la relazione educativa il rapporto tra docente e studente altro che didattica a distanza altro che distanziamento sociale l'esperienza positiva di questi mesi ci ha insegnato che l'autonomia è stato il momento in cui quell'alleanza tra dirigenti scolastici insegnanti studenti famiglie ha dato i migliori risultati e allora come dice un documento pubblicato da una serie di associazioni dalla FOE di S e di Isal liberiamo le scuole diamo la libertà di insegnare la libertà di organizzare la libertà di scegliere la libertà di costruire diamo più risorse sì più risorse alla scuola pubblica ribadisco quella statale quella paritaria ma per più autonomia scolastica cioè per più libertà per più possibilità di rimettere e concludo veramente al centro dello sviluppo di questo paese il primo pilastro che è l'educazione la formazione l'investimento nel futuro del nostro paese che sono i nostri giovani grazie deputata prego presidente in relazione alla pandemia da covid la scuola italiana ha subito due primati sul piano europeo il massimo periodo di chiusura e il massimo di ipotesi possibili incertezze in merito alla riapertura l'ultimo giudizio che ancora oggi a poche settimane dal prossimo inizio dell'anno scolastico avrei voluto evitare di leggere era caos scuola queste ulteriori incertezze sono in posizione intollerabile sia per le alunne e gli alunni che per i genitori la fase acuta della pandemia per fortuna è passata e sapendo ormai che i bambini si infettano più raramente ulteriori misure restrittive non sono giustificabili vi sono ipotesi restrittive che non hanno fondamento si afferma che gli alunni dovrebbero stare in classe distanti un metro dall'altro mentre nel contempo e per paradosso si aprono addirittura le discoteche e facciamo venire i turisti da tutto il mondo sulla base di criteri e regole che soltanto nella scuola si considerano inapplicabili misure di sicurezza minime come gruppi stabili misurare la temperatura e gli ingressi scalionati si possono accettare ma altre scelte inapplicabili comportano o restrizioni esagerate o il caos e le divisioni di classe non favoriscono di sicuro lo stato socio emotivo dei bambini non è necessario reinventare la ruota per garantire ai nostri bambini il diritto alle istruzioni ai contatti sociali basta guardare ai modelli adottati al di là dei confini signora ministra lei ha detto che il governo deve essere responsabile bene auspico che sia così e che il governo entro breve termine possa e debba dare le risposte chiare che i bambini e i genitori si attendono grazie grazie deputato Fussacchia prego grazie presidente ministra Azzolina lei ci ha restituito un lungo e dettagliato resoconto elenco di tutto quello che sta facendo per riaprire la scuola e ovviamente questo possiamo solo apprezzarlo come hanno detto alcuni colleghi in precedenza perché non ci sfugge quanto sia complesso in questo momento gestire la scuola e la riapertura detto questo ministra io ho solo due cose da dirle non scommetta tutto sul 14 settembre perché stiamo alimentando una forma di conto alla rovescia e creando la sensazione che ci sia una chiave da girare a una certa ora di un certo giorno a metà settembre non sarà così non succederà così perché non può succedere così perché la riapertura dell'anno scolastico è un momento molto complesso e difficile in anni normali figuriamoci quest'anno quello che invece va fatto quello che va alimentato è ovviamente accelerare su tutte le cose che sono di competenza del ministero lei prima ci ha ricordato che stanno per arrivare a breve le linee guida ad esempio per gli asili nido ecco imponga una data a tutti perché a breve è settembre ovviamente un altro collega le ha ricordate una cosa importante che non dipende da lei che ha il voto nelle scuole il 20 e il 21 settembre ma si faccia carico anche di questo in maniera molto ferma con la ministra la morgese e con il presidente del consiglio anche perché la responsabilità della richiusura poi non ricadrà su questo quel di castello ma sarà sempre attribuita alla scuola che guida la scuola facciamo tutto il possibile per far recuperare il più numero il più alto numero di studenti e di studentesse dal primo settembre e ancora una volta smettiamola di far passare il messaggio che chi deve recuperare comincia il primo settembre e gli altri il 14 settembre solo se ci fossero e chiudo presidente 14 giorni per recuperare perché il recupero andrà avanti dopo il 14 settembre per tutto e da ultimo però che è la cosa su cui voglio chiudere e credo sia la cosa più importante le famiglie sono esasperate oggi adesso ci sarà un po' di come dire di calma perché arriverà il mese di agosto inevitabilmente allora io credo che le famiglie saranno disposte a tollerare un disagio inevitabile che ci sarà nelle scuole a settembre ma ad una condizione che nel frattempo noi costruiamo una prospettiva che spieghi che noi non stiamo facendo tutto questo sforzo solo per ritornare alla normalità della scuola di prima e quindi mettiamo sul tavolo da subito Ministra la questione del dimensionamento delle aule delle risorse europee su questo ci dobbiamo scommettere il futuro della scuola e il futuro anche di questo governo grazie deputato Ross vi prego grazie presidente ministro lei ha dichiarato che il 14 settembre riaprono le scuole io la penso come il collega che ha parlato poco fa secondo me il 14 settembre non aprirà nessuna scuola perché perché purtroppo manca un programma dettagliato su come si aprirà le strutture non sono adeguate al distanziamento fisico poi ci sono anche alcune domande che aspettano delle risposte come i doppi turni come verranno svolti gli ingressi scaglionati come saranno la didattica i spazi alternativi come avverrà le lezioni online continueranno raggiungeranno tutti gli studenti soprattutto il reperimento dei docenti quindi io sono del parere che bisogna unire le forze bisogna cercare una soluzione però bisogna essere anche concreti e quindi io penso che difficilmente apriremo le scuole il 14 settembre poi permettetemi Presidente di fare alcune considerazioni lei ha parlato Ministro del problema pedagogico dei bambini delle scuole elementari e delle scuole materne allora mi consenta di darle un consiglio questa volta non da collega ma da uomo di scienza eviti Ministro di ascoltare solo il pensiero della scienza evitiamo la ghettizzazione delle classi perché perché la formazione dei nostri ragazzi necessita di relazioni relazioni vere di confronti tra coetanei solo così si forma il pensiero critico e poi vorrei parlare anche da padre di famiglia ne ha parlato anche un collega poco fa io sono padre di due bambine e guarda Ministro non è bello vedere le proprie figlie in fila con la mascherina che aspettano la misurazione della temperatura non è bello guardare le bambine che giocano con le mascherine senza vedere il sorriso private anche della parola questi sono solo alcuni degli esempi allora le chiedo come chiedo a tutti voi come crescerà la generazione futura ricordandoci che sarà questa generazione la classe dirigente del paese futuro e poi il Ministro mi avvia le conclusioni i banchi nuovi da lei pubblicizzati in tv di banchi ne vedremo pochi la gara pubblica europea rischia di andare deserta e comunque è praticamente impossibile quasi che si abbia tutta la fornitura entro il 14 settembre il problema a mio avviso Ministro colleghi è negli spazi e nelle strutture non tanto nei banchi che ci mettiamo dentro questi spazi per questo Ministro non parli di nuove tecnologie didattiche se poi mancano nelle scuole laboratori attrezzati per la didattica per non parlare poi in alcune scuole dove manca anche la cartigenica e il sapore oltre al fatto e concludo Presidente che la stragrande maggioranza delle strutture scolastiche non è nemmeno adeguata dal punto di vista sismico energetico concludo con un pensiero che non è mio visto che anche la Ministra ha portato le parole di Aldo Molo io porto le parole di uno scienziato che è Albert Einstein per me il peggio sembra essere una scuola che funziona con i metodi della paura della forza e dell'autorità artificiale tale trattamento distrugge i nobili sentimenti la sincerità e la fiducia degli alunni e produce un soggetto sottomesso allora mi auguro che non sia questo l'obiettivo che vuole perseguire il suo ministero chiuso a intervenire il deputato Tasso prego grazie Presidente Ministro Azzollina prendo dalle sue parole che si sta predisponendo per il prossimo settembre il rientro in presenza di tutte le alunne ed alunni delle scuole di ogni ordine e grado è una notizia che deve essere accolta con gioia perché la scuola ha la sua forza nella relazione come dire educativa tra docenti e discenti e tale relazione è fatta non soltanto di nozioni ma anche di esempi trasmessi di vissuto di confronti dunque risulta a questo punto a mio parere assolutamente necessario predisporre un serio piano di investimenti a favore della scuola si parla di edilizia scolastica di nuovi arredi anti-covid cancellazione delle classe sovraffollate e aumento del numero di docenti del personale ATA io vorrei richiamare a questo proposito l'attenzione sulla parola contratto contratto per il personale della scuola che è in attesa di rinnovo da 19 mesi noi dobbiamo tenere conto delle proposte che i maestri professori cioè coloro che vivono e portano avanti il mondo della scuola avanzano da anni cioè ridefinizione della funzione docente e adeguamento degli stipendi ai parametri europei cancellazioni poi delle norme che ostacolano quelle decisioni immediate e direi anche efficaci che soprattutto per chi assume atteggiamenti dannosi al buon comportamento scolastico quindi a tutela degli insegnanti beh sui banchi di scuola è notorio siede il futuro dell'italia qualcuno ha scritto uno stato che non investe in una istruzione di qualità per le nuove generazioni è uno stato senza futuro quindi è necessario valorizzare il merito eliminando le diseguaglianze è proprio sulla lotta alle diseguaglianze che io vorrei ritornare a sollecitare la sua attenzione Ministro quindi sulla soluzione e sulla costituzione di una scuola di tutti e di ciascuno non posso quindi dimenticare l'emergenza sostegno per la quale io tra l'altro presentai un emendamento al decreto rilancio che è stato respinto in commissione bilancio mi permetto di dire inspiegabilmente perché prevedeva addirittura un vantaggio economico per lo Stato ora gli studenti con disabilità e i loro genitori hanno pagato e notorio un prezzo altissimo durante la fase di lockdown e conseguentemente c'è stata l'interruzione delle attività didattiche in presenza io concludendo Presidente ribadisco che tutte le alunne e tutti gli alunni con disabilità hanno diritto ad una istruzione di qualità determinata dall'azione formativa di docenti specializzati sul sostegno e non più precari a garanzia proprio di quella continuità didattica che anche le famiglie hanno il diritto di ottenere per vedere realizzata il progetto diciamo il progetto di vita dei loro figli è una battaglia di civiltà che il governo soprattutto lei Ministro Azzolina e tutti noi parlamentari dobbiamo sostenere con determinazione lei lo ha detto poc'anzi Ministro io lo ribadisco nessuno deve rimanere indietro io la ringrazio per l'attenzione e ringrazio il Presidente per avermi concesso l'intervento grazie ecco cesarita l'informativa su cosa sul regolamento prego però si sospende la seduta con la conclusione dello speech sarà rapidissimo Presidente faccio un richiamo al regolamento articolo 13,1 la pregherei idealmente di non considerarlo in quanto io facente parte del gruppo di Italia Viva ma mi permetto di farlo facendo parte dell'intergruppo che riguarda il fine vita signor Presidente nella giornata di ieri c'è stata una sentenza che ha un'importanza fondamentale perché va oltre e stende la sentenza della Corte Costituzionale a proposito del fine vita del processo accappato e Mina Welby ed è una sentenza che farà sicuramente giurisbrudenza purtroppo è una sentenza che interviene nella totale assenza del Parlamento che nonostante sia stato invitato caldamente dalla Corte Costituzionale a deliberare su questo argomento più di un anno fa è semplicemente fermo e pensare che queste persone che vivono queste situazioni debbano risolverle non perché c'è una legge che garantisce tutti ma perché di volta in volta devono rimanere impigliate in un processo è qualcosa di inaccettabile tanto più che lei sa perfettamente Presidente io ho apprezzato molto le sue parole quando lei ha fatto il discorso di una legge alla Camera nel quale ha messo anche in evidenza quanto saremo stati attenti alle istanze che arrivavano dai cittadini c'è una legge di iniziativa popolare che è stata presentata nel 2013 che riguarda proprio il tema del fine vita e che lei sa perfettamente Presidente che se noi non procediamo in qualche modo decidendo in un modo o nell'altro come legittimamente può fare l'Aula su quella legge decadono sostanzialmente i tempi e bisogna ricominciare da capo con la raccolta delle firme allora in ragione del fatto che il comma 1 dell'articolo 13 del regolamento dice che la conferenza dei presenti di gruppo è convocata dal Presidente della Camera ogni qualvolta lo ritenga utile so che non dipende da lei o solo da lei l'ordine del giorno l'invito che le faccio proprio in ragione della sua sensibilità sulle istanze che arrivano dai cittadini di sollecitare la prossima conferenza dei capi gruppo perché prenda un impegno a calendarizzare come abbiamo fatto sull'altra legge di iniziativa popolare che era quella sulla separazione delle carriere ma fare in modo che il Parlamento sia vincolato a prendere una decisione poi qui dentro liberamente si deciderà qual è il tipo di legge da fare ma noi non possiamo continuare a rinunciare alle nostre responsabilità lasciando che questioni che stanno a cuore a tantissimi cittadini debbano essere regolate come è successo in tanti altri casi dai magistrati e dai tribunali grazie grazie deputato Giacchetti è così esaurita l'informativa urgente sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 16 la seduta è sospesa grazie a tutti grazie a tutti